Musica Ciao a tutti Oggi prepareremo la granita alle fragole Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 2 minuti Gli ingredienti sono Fragole, zucchero, ghiaccio Andiamo il via alla ricetta Mettiamo nel boccale lo zucchero Andiamo a polverizzarlo 10 secondi Velocità 10 Uniamo le fragole E andiamo a riunire sul fondo lo zucchero Chiudiamo Chiudiamo 10 secondi Velocità 10 Mettiamo il ghiaccio Chiudiamo 1 minuto 1 minuto Velocità 10 Spatolando Bene La granita adesso è pronta Andiamo a metterla nel bicchiere Andiamo a metterla nel bicchiere Granita alle fragole Grazie E alla prossima ricetta Grazie E alla prossima